Siamo in un momento storico veramente importante, abbiamo le tecnologie, le tecnologie di Smart Cities oggi sono una realtà, abbiamo i soldi per farlo, abbiamo la volontà dei sindaci, dei cittadini di avere tutto questo a disposizione, è il momento che si faccia, lo stiamo facendo, stiamo veramente cominciando a portare su tutta l'Italia, grazie anche alla collaborazione con Anci, le migliori tecnologie nelle quali l'Italia è peraltro leader perché possa veramente cambiare la vita dei cittadini, dalla parte della vivibilità delle città, della salute, della protezione del territorio, della protezione delle vite stesse dei cittadini. Sta iniziando secondo noi ormai un nuovo futuro per le città e saremo tutti parte di questo futuro.